Ok, per questi esercizi vi servirà una venda elastica, posizionatela sotto il piede, dopodiché impugnate la mano, partite già che la venda non sia completamente tesa, ma sia un pochino mole, vomito fermo lungo il fianco, da qui, con il palmo rivolto verso il soffitto, vado a portarla verso la spalla e poi ritorniamo dietro.